E' di almeno 55 morti il bilancio ancora provvisorio delle vittime, delle violenze e dei combattimenti odierni in Siria. Escalation di violenza che non cessa a diminuire a due anni dall'inizio della sanguinosa crisi. E' la stima complessiva delle vittime fornita dall'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune europea Catherine Ashton è salito a 100.000 cittadini innocenti morti. Per quanto riguarda i profughi sono oltre un milione. Tra le vittime delle violenze odierne invece ci sono almeno 4 donne e 9 bambini, mentre la maggior parte dei martiri si registra a Damasco e nei sobburghi della capitale.